E allora avanti i paccassoni coi carri e ta ta ta, e vedrete quant'è bella la libertà! Agi avanti indresù per sta sfilata, senza penserde dietra che romperisti vai! E allora avanti i paccassoni coi carri e ta ta ta, e vedrete quant'è bella la libertà! E' questo il ritornello che canticchiano tutti gli amanti del Carnevale di Fano. L'inno 2015 torna infatti ad essere lo storico pezzo della Borghetti Bugaron Band, che anche nelle prossime due domeniche, durante le sfilate, salirà sul carro della musica arabita con la sua travolgente allegria. Il gruppo, che a dicembre ha festeggiato i suoi primi 25 anni di attività con l'album Vien Giù, è pronta a suonare e cantare ancora, ma soprattutto a far divertire tanti con la canzone Avanti Indre. Nicola, una canzone che ha avuto un grande successo, ma che anno risale? E' scritta nell'estate mortalmente calda del 2003, la più calda che io ricordi nella mia esistenza, e poi fu la canzone ufficiale del Carnevale di Fano nel 2004. A cosa ti sei ispirato quando l'hai scritta? Io pensai subito alla gente, all'uomo della strada. È una persona che cammina proprio dal Lido, dove ero quando scrivo la canzone. che cammina e pensa, pensa al tempo che sta vivendo, ai problemi che ci sono, e soprattutto alle tante cose che a volte siamo costretti a fare anche quando non vogliamo, o che ci costringono a fare a volte anche poi noi incoscienti di farle per condizionamenti che ci sono. Quindi parla proprio anche di un sistema economico, che ancora non c'era la crisi, ma ahimè l'abbiamo, diciamo così, avevamo previsto questa cosa, dice proprio questo giro di quattrini che gonfia in un sistema che ci tirerà giù per una scarpata. Vi aspettavate che dopo diverso tempo sarebbe ritornata ad essere l'inufficiale? No, ma siamo stati molto contenti perché la speranza c'era, non me l'aspettavo, però insomma quando la carnevalesca ci ha detto questa cosa siamo stati contentissimi perché insomma era come quando te le senti certe cose che questa era la canzone giusta per il nostro carnevale. Ormai la frase avanti i pacassoni coi carri è diventato un vero e proprio detto fanese. Durante il corso mascherato avanti i pacassoni, perché c'era tutto il gioco dei carri, tra distanziarsi, farsi vedere meglio, c'è tutto, ma nei libri su fanno c'è scritto. E quindi c'era proprio questo detto con gli addetti della carneval, avanti i pacassoni coi carri, che poi diventava ed è diventato, almeno io da bambino l'ho sempre usato, e poi sempre come dire muoviti, diamoci una mossa, andiamo avanti, insomma, ecco così. Quindi è proprio diventato un classico modo di dire. Nei giorni della manifestazione sarà possibile acquistare l'album in cui è contenuta la canzone. Lo trovate in piazza, lo trovate forse anche durante i corsi mascherati, che comunque all'interno del carnevale è possibile trovarlo. Quindi chi se la vuole sentire anche a casa, insomma, ne ha chiaramente possibilità. Grazie Nicola, io direi di salutarci ascoltando ancora una volta il ritornello di Avanti e Indre. E allora avanti i pacassoni coi carri e tattattà, e vedrai te quant'è bella la libertà. Agi Avanti Indre su questa sfilata, senza pensierne dietro a che rompen i stivei. E allora avanti i pacassoni coi carri e tattattà, e vedrai te quant'è bella la libertà. Che noi sduprano tutta sta alegria, che dà un con d'energia per combattere e campare. Che noi sduprano tutta sta alegria, che dà un con d'energia per combattere e campare.